Numirapace, nata Numi Noren è un'attrice svedese Nasce a Dudiksvall il 28 dicembre del 1979, figlia di Roelio Duran, un cantante spagnolo di flamenco originario di Bataos, e di Nina Noren, un'attrice svedese Secondo quanto da lei affermato, suo padre poteva essere di origine gitana La sorella, Saerun Noren, è una fotografa Rapace dice di aver visto suo padre solo occasionalmente prima della sua morte Cresciuta sino all'età di 5 anni a Jarna, si trasferisce a Fluir, in Islanda, con sua madre ed il patrigno A 7 anni le viene data una parte muta nel film Iskut Garafsins di Rafgan Logsson L'esperienza le fa capire di voler fare l'attrice Una decina di anni più tardi debutta in televisione, interpretando Lucinda González nella serie TV Trek Lomnor Nel 1998-1999 studia presso la Skara Skolshin, per essere poi scritturata nel 2000-2001 dal Theater Plaza, nel 2001 dall'Orientítern, nel 2002 dal Theater Galizien, e nel 2003 dal Stockholm Stads Theater e dal Royal Dramatic Theater Nel 2001 si è sposata con l'attore svedese Ola Rapace, con cui ha deciso di adottare il comune cognome Rapace traendolo dal significato letterale che questa parola ha in italiano Anche dopo la separazione, avvenuta nel 2011, ha scelto di mantenere tale cognome a fini artistici, i due hanno avuto un figlio nel 2003 di nome Lev Nel 2007 ha interpretato la protagonista in Daisy Diamond, film danese drammatico Nel 2009 interpreta il ruolo di Lisbeth Salander nei film Uomini che odiano le donne, la ragazza che giocava con il fuoco e la regina dei castelli di carta Alcuni dei piercing che la rapace ha nella trilogia sono stati fatti per l'occasione Grazie all'interpretazione in Uomini che odiano le donne, ha ricevuto una candidatura agli European Film Awards come miglior attrice e i prestigiosi BAFTA Awards, gli Oscar britannici, come miglior attrice protagonista Nel 2011 il suo debutto in una grande produzione statunitense, nel cast del film Sherlock Holmes, Gioco di Ombre Sempre nel 2011 vince il premio Mark Aurelio d'Argento come miglior attrice al Festival Internazionale del Film di Roma 2011, per la sua interpretazione nel film Babical A novembre del 2012 è comparsa come protagonista nel video del brano Doom and Gloom dei Rolling Stones Nel 2014 compare nel video del brano Eizze del gruppo inglese Cassabion Nel 2017 appare come protagonista nel film Seven Sisters Nelle versioni in italiano dei suoi film, Numirapace è stata doppiata da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al Calane